Questa mattina siamo stati alla scuola di Knejica per la consegna degli zainetti agli studenti acquistati con la raccolta fondi dell'operazione Bag Full of Love. Siamo in contatto con gli insegnanti della scuola per mettere in atto, grazie a Love, altri progetti. In seguito ci siamo spostati alla scuola di Costa Inizia, già visitata da noi anche l'anno scorso durante la biciclettata. Abbiamo inaugurato l'aula giga, l'aula informatica per i ragazzi e adesso siamo in procinto di cominciare le operazioni per ristrutturare la palestra danneggiata dal terremoto del 2020. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti